Ciao amici, buongiorno. Vengono confermate oggi, sabato, due grandissime novità che avevamo già anticipato alcuni giorni fa. Infatti tra lunedì e martedì arriverà molto freddo su gran parte dell'Italia, ma la novità più interessante è l'arrivo della neve anche in pianura, dove? Su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Le nevicate saranno di pochi centimetri. Grazie, una buona giornata a tutti. Ciao!